Le denunce fatte dai nostri agricoltori sono ancora del 2017 e 2018, in parte saranno anche periziate, ma pagate neanche in una domanda. Nel 2016 soltanto una parte di questi danni è stata rimborsata. È questo, ma non solo, uno dei motivi per cui le tre associazioni dell'agricoltura, CIA, Coldiretti e Confagricoltura, hanno per il momento stoppato le nomine nell'ATC di Arezzo dei loro rappresentanti. L'ambito territoriale di caccia della provincia di Arezzo è ormai commissariato da due anni. I commissari che si sono avvicendati, scrivono le tre organizzazioni in un documento, non hanno mai dato seguito alla pubblicazione integrale degli atti deliberativi, lasciando le associazioni ignare di ogni accadimento. Abbiamo fatto più volte richiesta di avere tutta una serie di documentazioni che a questo momento ancora non ci sono state date. Abbiamo chiesto anche alla regione di intercedere per questo, ma ancora non sono arrivate. In questo momento non è assolutamente opportuno che noi entriamo, sia per rispetto dei nostri soci, che non si vedono più tutelati nel svolgimento della loro attività, sia dell'eventuale nostro rappresentante che entra in una situazione non chiara e di conseguenza rischiosa anche sul piano personale. Sconosciuti sempre dal 2016 anche i danni nei confronti dell'agricoltura, non solo da maltempo, ma anche e soprattutto da ungulati. Noi abbiamo chiesto più volte un accesso ai bilanci, alla gestione del personale, a come vengono ripartite le risorse e soprattutto quello che per noi è importante in questo momento è anche capire quanti danni possono essere risarciti e in che termini. Stiamo parlando ancora di danni del 2016 che non sono stati risarciti. Quindi noi però non precludiamo la nostra presenza in un ATC, ma vogliamo ripartire da un punto, diciamo, zero, in cui ci sediamo prima a un tavolo con tutti gli attori, compresa anche la regione, in cui poi possiamo ridefinire un ATC che funzioni, perché l'ATC risolverebbe veramente tante situazioni in una gestione corretta comunque della fauna selvatica nel territorio.